esci fuori da quella tana esci tania esci ecco ora così si riesce a fregare ma che piccola una nana sembra un gigante in foto non vedi una gattina piccola manco due chili fa una mano questa è una mano a me una zampata io mentre di spalle riesco a fregarla questa l'adore il più o meno come a chapelle sì sì perché nel tuo cuore gli giocavamo un sacco a questo faceva di buono no non voglio non mi devi toccare no giocare sì le fusa sì ma toccare no ora che sterilizzata doppio vaccino la posso pure liberare aspetto una settimana che non abbia qualche effetto collaterale dal vaccino e la libero magari la libero dentro casa mia che dici stefio la libero di qua